Ecco Carmelo che è rimasto subito al canna tanzi Carmelo! Ti hai rovinato oggi! Te dovevo provo a chiedare io! Puffalo! Hey! Te dico, qui! Che andare dai! Masi evo! Sippelo! Vente! E' un po' Allora, com'è chiaro? C'è di fermo? Ah? A casa di Canaro solo da Zurco come sape oggi Oh, con un bar Oh! Un bar da più venso il panino, mamma E' un po' C'è di fermo? C'è di fermo? C'è di fermo? C'è di fermo? De fermo? Sedang c'è la figlia dai c'è la figlia c'è la figlia vedi la coltina mare 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 vai giù l'accento l'accento vai c'è la tua ma rai a puxarmi il restriccio però non chiamare aspettai di che se leve uè carmelo ritiamo nulla l'accento lo stiamo in cerchio la bambina è in erano perciò eri si poteca prima se erano la bambina si erano la bambina no non inventato una c'è la bambina oh, l'hai salvata a avere cattolino no, tu ce l'hai avuto quando avevo moruto io? no mi stai con un bacino di un gatto se andavo a questo e mi trovavo con Gioia e mi stai con un bacino io a telefono io a per arrivare da un gatto se ci arrivo a telefonare che già mi arrivo in un chiamato guardare arribeeeeno ma com'è che fine fico? un nipiglio da te arribeeeegora e bubocco che sei un bruggero dottoroi questa settimana è zitto nei tumuli pari pari ve lo ferro che c'è bella che c'è bisogno di scena venga monsi no monsi ma chi si è chiesto che provoca tutti io me l'ho annagnato però qua si deve salire nel 10 secondi e qua tu ci fai perdere guardare quella è davanti pure perchè hai un 4x2 un vizzo un vizzo con una seconda arrivare fino a 3 quarti di salita poi lì sopra spizzolare un poco mettere marcia e forse non c'è non c'è ma non esce vedi se questo film riesce a farlo la figa la figa che不會 non c'è non c'è zzzato non c'è ma c'è ma ci si sceglie la gente non c'è no no come stai avanti pari che ci passa chai avanti 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 come on Sì Sì Poi Non so Chiusura Sì, basta camminare, ma vi chiamo pulito Chiusura a fare la scuola o a fare scura Può sono semplice bello per tutti un'acceso però bello per tutti un'acceso comunque se uno arriva a chiedere il ca magari una minchiata ma che fece carmelo? miau 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 vai 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 con Gisindro forse dai se non c'è chiane niente fai oh vai chianeci dacci le manette e te ne va vai 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 ehi volpend ma bella se le dogar me sa precisi cura benzina signori pausa panino